Il Piazza San Pietro L'incontro si è tenuto sabato 30 ottobre ed è stata l'occasione per un piccolo esodo di ragazzi con cui Papa Benedetto ha usato parole inconsuete, parole spontanee e dirette, parole che hanno centrato il bersaglio. E anche grazie a questo approccio del Pontefice l'appuntamento non ha tradito le attese. A parte la stanchezza, la distanza dall'altare dovuta alla straordinaria partecipazione del popolo a Cib, ben oltre alle previsioni e lo spostamento in Piazza del Popolo e a Villa Borghese, nonostante questi fattori l'incontro è stato ricco di suggestioni, nuovi spunti e di amicizia. A Roma era presente anche Monsignor Antonio Lanfranchi che ha salutato per telefono la delegazione modenese prima del ritorno. Il gruppo invece è rimasto anche domenica 31 ottobre, una giornata di relax e turismo, un modo per passare del tempo insieme per ralacciare amicizie tra ragazzi provenienti da realtà parrocchiali diverse e coltivare rapporti associativi. Un'autentica opportunità per tutti per diventare grandi insieme.